Anche questa strada non web, però vi posso anche salutare, teniti da un bacio, Bulldozer, Tino, tre baci. No, bambini, non l'ho visto, più che altro io devo leggermi la patch note, perché è stata una patch sulla jungle, e brazza, non ho fatto manco in tempo a imparare che già c'è una patch note. Giava ne sono toccato? Allora, B-B-B-B-B-B, diciamo che gioco... Bulldozer sotto lineatura ETA ha detto, mi hai fatto tornare la voglia di giocare in giungla, ti odio sappi lo minore di tre. Però sembra allucinante questa cosa, devo capire un attimo. Al giunto ho un bel da qualità di giocazione di tutti i draghi, esperienze di cui... Di Fikara, ma dov'è il nerf alla jungle, scusa? Non c'era il nerf alla jungle, non c'è bro. Ma allora va bene così Il nerf è il sistema expert Sistemi Il sistema di esperienza di recupero in giungla Funziona in larga Vabbè ma non me l'ho fatto un cazzo questa roba Questo non me ne sbatte una sega Dovevano andare a fare gli smite Vabbè mate ci è andata bene Allora qui penso che si gioca a bozzi Vero? Si Fattiamo un head Voglio farmi un giretto mate Magari devo il crack Andiamo per double scatto Vediamo se riesco Ficca ha sbagliato di nuovo C'ho i biscotti Ah sto stendo in oriano Sono proprio un coico E invece no E invece sono il numero uno Bastato ce l'ho quasi Fai cagare che livello stai Primo messaggio del canale Però non è l'orfanotropio questo Che è sbagliato E' l'orfanotropio questo E' l'orfanotropio questo Bene bro Kyle purtroppo non so che è successo Ma gli si è mancato il dito Mentre fightava E non ha premuto il tasto R Ha avuto un taglio netto Ponte system is broken Matchmaking system is broken Vabbè mate ma sono tutti i terrativi artisti qua Bro tutti i loser queue stanno Porca puzzetta Forse una caratteristica base degli emerald Non lo saprei Posso attaccare Malfoy ti prego Andiamo a provarlo noi il bar Non lo so se è una buona idea Vabbè nel cazzo me ne hai fatto Ti prego Non sbaglio lo so mai Va bene accettabile Potevo doggiare l'assolto di Nico Ma accettabile Vayne non era in fight Che mal fai te 12-0-10 E sta giocando da solo Io però sono morto Non so dove sia Kha'Zix Buonissimo Kha'Zix è bot Meno male Possiamo puscire top ragazzi Tanto tu difendi vero? Vai Ma la nostra patria con la Kha'Zix Non dovrebbe essere un paura Ecco la torre Ok ce l'abbiamo fatta mate Ho caotico ma ce l'abbiamo fatta Allora Banniamo Jarvan Anche se lo volevo giocare Quindi non era il caso di bannarlo Forse Spariamo il viego game Sono contro Dusky Ottimo Ma Dusky Non mi costa Vero? Se mi costa È qualcosa di imbarazzante Non posso manco coverare la mappa Perché sono in jungle Ma possibile che Dusky Gioca a Fiddersi Che si chiama Ernule Nam No lo so Secondo me non sei tu Però che succede? Oh Questo Dio Flash feed Potevo forse flashare Non so Possiamo fare Herald Velocissimo Cioè scatola le black Non è così utile Però non fa niente Oddio forse Però io lo riesco Ci provo Ma non ce l'avrò mai Non l'ho preso Oh Cristo Dio X andiamo sulla torre Cioè gira il cazzo Facciamo due torre Secondo me il tipo è un po' Oh Secondo me il tipo è un po' arrabbiato Dusky Non sei tu Questo Fiddersi Ma se sei tu Fai veramente vomitare Quindi spero ovviamente Che non sia tu Guarda necce Alla c'ho da necce Poi si sta attendo dritto a me Che non ci ha capito una serie Vabbè Poi l'inimito Oh Eh questo è brutto Oddio Quantum Terribile Flash Scuta Vabbè T'ora Mite Alla c'è Questa è un po' Che No, 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 no. No, 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 no. Arturo e Allelo maledetto. Vediamo come se la caverà Arturo. Sarà un momento molto duro. Allora, ci speriamo un German game. Allora, smite direi verde, come al solito. Qui si ganka bot. Top, poppy, tank, hench, possono picchiarsi quanto gli pare. Simon 99 ha detto ciao Giacomo, pensavo una cosa. In questo momento io e te siamo al lavoro, ma io sto sudando e sono stanco e i clienti li vorrei tutti morti. Tu invece sei sudato e stanco e vorresti tutti i compagni e avversari morti. Nel gioco ovviamente. Vedi che alla fine fai un lavoro vero? Tutto verissimo. Jarvan smurf lola no smurfing from challenger. Badame. Ne l'ho spottat. E' un roba azulamente. Noi stanno. Noi stanno. Oh, ho tolato. Oh, my bad. Oh, però ho tolato. Questo è un disastro. Siamo in 2v2 mid. Io questo me lo potremmo shuttare. Vediamo se riesco. Ecco, cazzo. Vediamo se salta. Vaffanculo, dovevo essere più veloce con la combo. Buono, bravo mid. Suoddio. F3 minuti? No, bro. Non mi pare il caso. Vero, bro. Hittato l'emerald. Cade il mondo. Magari è ragione lui, me. Che guys? Lex win. 0-4 poppy. Oh, qua stiamo trollando. Lasciamola a Victor. Mi mancano i danni, non tanko, mate. Siamo belli indietro. Ora con due item forse va un po' meglio, ma ci vuole tempo ancora. In generale vanno è un po' così. Se ti abusano early, fai fatica. Sei un early game champion. Non mi hanno abusato, però ho trovato difficoltà a trovare spazi. Top è negancabile, anche mid. Cioè, mid. Erano tre lane molto difficili da gancare. Però, my bad. Io andrei in. Porco, ci dobbiamo dare un legge su Chris. Hoppina, chilling. E' chill. Che c'è arrivare? Blank. Poppy, puoi fare qualcosa di buono nella tua vita di... Dobbiamo stilare. Bro, ma è la torretta infernale. Vabbè, bro, ma che sto guardando? La torretta infernale. Ok, ok, vabbè. Fermo come un... Un ceppo. Anche a Sylver stanno kai-tiver ormai. Dai, questa è volta. E' arrivata la torretta, mate. Game particolare, mate. E io la butto lì. Forse Agurin l'avrebbe vinto, ma Arturo questo non ce l'ha fatta, mate. Questo era un po' troppo complicato. Buono, che idea ha fissato. Buono, che dubba è una stessa. Buono, cheollo. Buono, chelsassume. Buono, cheINGua... Buono. Buono, che lascerà... Buono, io cristall99146012. Grazie a tutti.